Shock a Rimini, scomparsa misteriosa di una giovane mamma di soli 25 anni. Di lei nessuna traccia. Prima di entrare nel vivo di questa vicenda, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il più possibile il video e il video. Cerchiamo di aiutare le forze dell'ordine a ritrovare questa giovane ragazza. Grazie per il tuo supporto. A Rimini, l'allarme è scattato per la scomparsa di Melissa Neri, una giovane mamma di 25 anni, di cui la famiglia non ha avuto più notizie dal 23 aprile. La madre di Melissa ha lanciato un appello disperato, rivelando che l'ultima volta che ha sentito sua figlia è stata durante una videochiamata con la bambina di 4 anni. Melissa era stata vista l'ultima volta il 19 aprile, quando era stata al parco divertimenti di Mirabilandia con la sua bambina, prima di accompagnare la piccola dal padre. Tuttavia, il contatto con la madre è diventato sempre più scarso nei giorni successivi. Quando Melissa ha fatto una chiamata alla madre il 20 aprile, ha riferito di essere in partenza per la Croazia, per una vacanza improvvisa, senza aver avvertito in anticipo la famiglia. Da allora, le tracce di Melissa si sono completamente perse, con il telefono spento e nessuna risposta ai messaggi. La madre teme il peggio, soprattutto considerando le allergie alimentari di Melissa che richiedono un farmaco sempre con sé in caso di emergenza. La madre di Melissa ha lanciato un appello anche tramite la trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Descrivendo i tatuaggi che la rendono riconoscibile e chiedendo a chiunque abbia informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell'ordine. La prensione e la preoccupazione crescono a Rimini mentre la ricerca di Melissa continua. Grazie a tutti.